Ciao da Alice, oggi voglio parlarvi del robot aspirapolvere ECOVAX WINBOT X. Questo robot non è solo utile per l'aspirazione della polvere ma è anche in grado di lavare. Probabilmente vi state chiedendo perché ha questa forma quadrata e perché le sue dimensioni sono così limitate. Dovete sapere che il WINBOT X è un robot per la pulizia delle finestre. Grazie ai suoi sensori e la sua tecnologia WINSLAM 2.0 è in grado di selezionare automaticamente il percorso migliore per la pulizia e rilevare spigoli e telaiature in modo da spostarsi in tutta sicurezza. Il sofisticato sistema di pulizia WINBOT X permette di lavare e asciugare in ogni direzione. In questo modo si può contenere la soluzione a detergente e garantire i risultati più duraturi. Se continuate a non essere sicuri che il vostro WINBOT X rimanga attaccato alla superficie che sta pulendo, potete collegarlo tramite un cavo di sicurezza alla ventosa incluse nella confezione. La batteria interna consente un'autonomia di 50 minuti di utilizzo. Nel caso in cui la batteria si scaricasse prima, il robot torna al punto di partenza ed emette un segnale di allarme per 30 minuti. In questo modo potete recuperarlo e ricaricarlo con l'alimentatore che troverete nella confezione. Se invece il WINBOT completa il percorso di pulizia senza intoppi, tornerà alla posizione di partenza, così lo troverete sempre al solito posto. Inoltre, grazie al suo pratico telecomando, è possibile accenderlo, spegnerlo, metterlo in pausa o fargli cambiare direzione da remoto. La comodità del WINBOT X è anche nell'ergonomia. Grazie alla resistente maniglia e al peso esiguo di 1,8 kg, è possibile posizionarlo e azionarlo con una sola mano. Questo è tutto per quanto riguarda il nostro ECOVAX WINBOT X. Se siete interessati a provarlo, lo potete trovare su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando, supportate il nostro lavoro mettendo mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Se vi va, lasciate anche un commento. Ciao e alla prossima!